bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono Gabi io Birillo come prima cosa vi volevamo dire che sabato 16 marzo ci sarà un super evento a svappo caffè marina di carara via capitano fiorillo con degli ospiti speciali a milf svappo e cochesi ci saremo anche noi da e altre persone venite in tanti mi raccomando ci sarà un evento collaborazione con vapor art e svappo caffè dove si proveranno tanti liquidi della vapor art noi saremo là e aspettiamo insieme a cristiano grande cristiano di svappo caffè ora andiamo a recensire un liquido che abbiamo miscelato noi della dream mode si chiama deja vu un cuore di pistacchio già sono liquidi cremosi che ci possono piacere a baseta 70 30 senza nicotina ora andiamo a fare la prova di svappo di questo liquidozzo una crema di pistacchione a noi ci piacciono questi liquidi cremosi non andiamo a provare sul ghani al druga io sulla risumato l'anien con l'ambito due al coil buono ma crema di pistacchio come quella che c'è nelle nelle come si chiama in croissant siciliani sa proprio di crema verde ti lascia proprio il gusto di pistacchio cioè atomico dolcissimo appunto giusto particolare perché molto dolce si è un liquido molto dolce si è particolare di piacere a noi ci piace buonissimo per essere liquido ho fatto si per me 8 8 e mezzo sono più da tutti tutto proprio buono si non aspettavo che mi abbia buono così davvero abbiamo lasciato due tre giorni lì a macerare è venuto bene è venuto proprio bene si si lo consigliamo lo consigliamo a chi gli piace cremosi chi vuole provare il liquido al pistacchio la tua baseta il tuo aroma misceli e sempre la sei a posto attacchi sulla boccetta l'etichetta 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 e basta lo so magari 50 a chi piace lo può fare anche 50 50 da una tiro di guancia tiro di guancia quello che vuoi buonissimo ci può anche sbizzarire magari con l'aroma ci puoi aggiungere qualcosa un goccino di tabacco con il pistacchio se non gli piace il black cavendish non lo so ma struzzare con queste cose vero 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 buonissimo dal tavolo dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram venite a cercare di aspettiamo ciao ciao